Presentiamo alla comunità il sollevatore nuovo che abbiamo acquistato per far sì che i disabili e tutti quelli che hanno problemi di edambulazione possano entrare in acqua e anche per premiare una nostra atleta di nuoto sincronizzato che è appena rientrata dal Giappone, dai mondiali di nuoto sincronizzato. C'era la necessità di fare entrare persone con determinate problematiche in acqua e il vecchio elevatore non funzionava più bene da qualche tempo. Così grazie all'aiuto di alcuni benefattori abbiamo acquistato un nuovo sollevatore che ci permette di fare entrare ed uscire dall'acqua con estrema facilità tutti gli utenti che ne hanno la necessità. E a differenza di quello precedente un sollevatore mobile, quello di prima era fisso su una corsia, su una piscina, invece quello di adesso lo possiamo utilizzare sia nella vasca interna che quello esterno e ovunque. Abbiamo ricevuto questa richiesta di contributo per l'acquisto di una macchina che è fondamentale per l'attività natatoria delle persone con qualche disabilità. Siamo soddisfatti del fatto che l'acquisto è stato fatto, la macchina è entrata in funzione e con un impegno modesto da parte di tutti si è raggiunto uno scopo molto importante. L'acqua è la vita. Per me l'acqua è stare diritta in piedi, poter essere una persona normale. Perché l'acqua mi fa stare bene, mi fa sentire leggera, mi fa sentire dinamica, mi dà allegria, mi massaggia. Per me veramente è la vita. Infatti vengo tre volte alla settimana, in più anche a casa, ho una piccola piscinetta, vado al mare. Io proprio senza acqua non so se riuscirei ad andare avanti. Grazie.